Fino al 31 gennaio, nel palazzo di Via della Pergola 57, in cui Benvenuto Cellini fuse il Perseo, è in mostra Noi neanche dannati, a cura di Vittorio Sgarbi. L'esposizione, allestita negli spazi della Galleria d'Arte Etra Studio Tommasi, propone una settantina di sculture di Elena Mutinelli, artista milanese che lavora senza mediazione di macchinari laser e quasi sempre senza modello. Perfino lei vede che l'uomo non c'è più e quindi neanche dannati, il bel titolo di questa mostra che lei ha voluto. Io l'ho vista, ormai qualche anno fa, i suoi esordi, fare delle mani, dei frammenti di corpi, senza mai arrivare a fare una scultura compiuta per inadeguatezza del soggetto. Non c'è più il monumento equestre, non c'è più il monumento a un eroe, non c'è più l'eroe. Questa immagine formidabile di intreccio di schiene e di corpi non rappresenta un volto, una persona, un personaggio, rappresenta quello che resta, un frammento di un'umanità perduta. E da questo punto di vista la mostra è onesta. Poi c'è in lei un'ambizione donchisciottesca quasi di dare a queste persone, che non ci sono più, questi personaggi senza volto, un volto della storia. Quindi riprendere come in un convito o in una specie di conclave dove appaiono personaggi della storia, guerrieri, sacerdoti, cardinali, è come se fossero delle maschere. Ecco, un teatro, una costruzione fatta per una regia, uno spettacolo, in cui qualcuno recita in questo, non l'ho letto fino a qui, quindi è inedita, c'è un dialogo con il teatro. La mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. L'ingresso è gratuito.